E passiamo ad uno splendido pulmino, è un Vito Tourer del luglio 2016 quindi un Euro 6B, 2002 turbodiesel Mercedes introvabili, soprattutto così ben curati, vetri scuri al posteriore interni assolutamente perfetti sedili in tessuto chilometri solamente 66.700 ovviamente certificati e garantiti da noi autoradio, tutti i vari comandi, climatizzatore ovvio è un cambio manuale a sei rapporti panchine in perfette condizioni andiamo a vederlo qui nel dettaglio anche al posteriore vedete il grandissimo portellone posteriore per caricare qualsiasi bagaglio le panchine come è noto sono ammovibili e ribaltabili in base all'esigenza portellone comodissimo laterale unico proprietario chiaramente fatturabile con IVA esposta un'altra grande occasione qui a Sei Marce a Varallo Bombia è un'altra grande occasione qui a Sei Marce a Varallo Bombia